Patricia, mi dispiace molto per la tua perdita. È colpa tua! Non immagino nemmeno come possa sentirti. I tuoi figli... Risciacquo. Risciacquo. Sono al sicuro ora. Ma l'hanno sentita piangere. Hanno sentito il bruciore delle sue lacrime. Lo sentiranno. E lei verrà a prenderli. Che? La llorona. Padre, puoi aiutarci? La chiesa collabora con persone che sono specializzate in situazioni del genere. È la llorona. Sta arrivando. Lei è già qui. Che dobbiamo fare? Siamo di fronte a un male che non ha limiti. Risciacquo. Ria. Ria. Grazie per la visione!